Sono Francesca Maffei dello Sport Hotel Romantic Plaza di Madonna di Campiglio, siamo l'hotel Quattro Stelle in centro, la località, è stato fondato nel 1956, siamo già la terza generazione e lo gestiamo io e i miei genitori con circa una ventina di collaboratori. Abbiamo anche un'altra struttura vicino, si chiama Shelly Mountain Plaza con degli appartamenti che gestiamo direttamente da qui, da remoto. Quando abbiamo deciso di cambiare il nostro software gestionale lo abbiamo fatto principalmente perché cercavamo una soluzione che integrasse tutto ciò di cui avevamo bisogno che era il CRM, il PMS, il Booking Engine e il Channel Manager, cosa che abbiamo trovato in Welcome che è il programma di Passpartout e poi in Technobit che è l'azienda invece che ci segue direttamente quindi sul territorio e che ci ha garantito anche una personalizzazione totale di quello che erano gli strumenti forniti e questo per noi era molto importante. Sono Guarnieri Marco della ditta Technobit SRL, socio in azienda e mi occupo, seguo la parte commerciale con un particolare focus sul settore Orica. Grazie al rapporto con Passpartout, un rapporto che dura già da dieci anni e i prodotti nel particolare menu Welcome e Retail, siamo stati in grado di raggiungere vari clienti sul territorio regionale, uno fra tutti per esempio Francesca Maffei con il suo Sport Hotel Romantic Plaza dove siamo qui adesso. Nel caso specifico da Francesca abbiamo installato il software alberghiero collegato poi con all'interno di tutta l'infrastruttura dell'hotel pertanto sia con la parte fiscale della stampante fiscale sia l'infrastruttura informatica, si va dal server ai computer, quindi a cascata è un prodotto completo. Andiamo proprio a fare un servizio di consulenza e ottimizzazione dando assistenza al cliente durante tutto l'arco dell'anno 365 giorni grazie ai nostri collaboratori e per fortuna grazie a questo con lei e anche con altri clienti si è instaurato un ottimo rapporto di lavoro professionale ma anche di simpatia e fiducia. Basti dire che conosce non solo me ma anche almeno metà degli altri collaboratori in azienda e dei soci. Con la complessità che il nostro lavoro ci impone oggi non potremo più fare a meno di welcome anche perché ci ha aiutato a sistematizzare ed automatizzare dei processi che prima erano davvero time wasting e soprattutto anche con il turnover che spesso ci troviamo ad affrontare con il personale di front office permette anche ai nuovi arrivati di integrarsi facilmente e di apprendere velocemente queste tecnologie e quindi di velocizzare il lavoro e di rendere anche meno traumatico il cambio e il passaggio di consegne. Infine anche a livello di immagine verso la clientela ovviamente un ospite, un potenziale ospite che si vede recapitare un preventivo fatto con una simile tecnologia con un mini sito dedicato che si apre con una certa grafica e determinati tools ha chiaramente tutto un altro impatto ed è molto più propenso anche a un'eventuale prenotazione. La soluzione di software precedentemente in uso da Francesca nella sua struttura era sicuramente sufficiente però molto vincolata. Passando poi alla soluzione del software gestionale Welcome ha trovato uno strumento modulare innanzitutto cosa che ha aiutato poi anche nella nella parte decisionale con alcuni strumenti già all'interno del pacchetto di Welcome come il modulo CRM senza dover ricorrere a degli strumenti esterni. Poi ci sono altri moduli strumenti che abbiamo aggiunto nel corso del tempo alcuni necessari per le richieste del mondo esterno per esempio mi riferisco alle alla fatturazione elettronica altri il modulo 3d secure molto utilizzato dal cliente per la transazione sicura dei pagamenti dei clienti altri moduli invece che sono stati una un po una sorpresa nati anche dalla curiosità del cliente di provarli come il modulo myself col cliente che dall'esterno può prenotare fare il check in in autonomia per la sua struttura questo è il tipo di rapporto che noi cerchiamo e che vogliamo creare con il cliente grazie al prodotto grazie al rapporto anche con con Passpartout che non sia ad un canale unico ma due canali quindi ricevere lato cliente lato nostro delle comunicazioni che si trasformano poi in soluzioni per il cliente questo è il modo superandi che vogliamo che cercavamo che abbiamo poi trovato confidiamo nei prossimi anni anche per i futuri sviluppi investimenti che faremo di poter continuare ad affidarci ad un partner come Passpartout e come Technobit perché significa per noi molto saper di avere qualcuno su cui contare qualsiasi cosa accada